Colpo di testa di Pasquale, poi Balotelli scaraventa in avanti, Limbersky riesce in qualche modo a far arrivare il pallone a Plagil, altro traversone, attenzione a Kozak, colpo di testa sul fondo con Buffon che comunque copriva il primo palo, è rimasto a terra, oh sangue, è rimasto a terra Pasquale. Sangue, sangue, e allora brutta ferita per Manuel Pasquale, brutte immagini, bruttissimo taglio, bruttissimo taglio, tiene subito il cambio a Bolucci ma è chiaro, andiamo a rivedere, il comito largo di Kozak, involontario ovviamente però dolorosissimo, per Manuel Pasquale, brutto taglio. Pochi decimi di secondo, tremende queste immagini e allora noi ci fermiamo per un istante.